Comune di Pordenone e ATAP hanno presentato l'autobus urbano ecologico alimentato a metano liquido. Tra il 2021 e il 2022, 15 di questi bus entreranno nel parco mezzi ATAP, grazie a un bando statale vinto dall'amministrazione ciriani. Questo provvedimento, cioè l'acquisizione progressiva di bus a metano, quindi assolutamente ecologici, che permetteranno una drastica riduzione di emissione del particolato. Puntiamo da un obiettivo molto ambizioso, ne acquisteremo una dozzina, un paio ne acquisterà anche direttamente ATAP. E cioè andiamo nell'arco di un anno o due anni a diventare tra i primi in Italia, se non addirittura a livello europeo, per numero di bus ecologici presenti nel nostro parco mezzi. La sostituzione del parco mezzi per quanto riguarda sempre il trasporto pubblico locale e urbano, anche questa è una risposta importante perché chiaramente è il tipo di trasporto che inquina di più e di conseguenza avere dei mezzi completamente ecologici, chiaramente vanno a togliere una quota importante di emissioni nocive in atmosfera. L'operazione EcoBoost non è l'unica nel campo ambientale. Questo è un provvedimento che si inquadra all'interno di un percorso molto più ampio che il Comune sta svolgendo, di politica ambientale negli esiti reali, nei fatti e non nelle parole. Ricordo il piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici, 6 milioni di investimento che hanno permesso una riduzione dei consumi tra elettricità e calore del 18% e una diminuzione dell'emissione di CO2 di 724 tonnellate anno. Ricordo il sistema infrastrutturale delle fognature, fondamentale per recuperare il gap, erano punti ultimi in Italia per la depurazione delle acque, quindi magari ci si abbraccia ad un albero ma non si abbraccia a un tubo delle fognature che è molto più importante.